Lo sapevi che esiste davvero una spada nella roccia e si trova in Toscana? È la spada di Galgano, un cavaliere medievale che, dopo una vita dissoluta, si convertì alla fede cristiana. Si narra che egli piantò l'arma nel terreno per trasformarla in una croce, sancendo così la sua conversione definitiva e ritirandosi a vita eremitica. Oggi è possibile ammirare la spada, custodita nella cappella di Montesiepi, nei pressi dell'abbazia di San Galgano a Chiusdino. Noi abbiamo scelto di visitare questi luoghi partendo da Monticiano e percorrendo un bellissimo sentiero che si inoltra nel bosco. Trovi tutti i dettagli del trekking in descrizione? Salve Rille per non perderlo!